Prima di tutto vi chiedo scusa. Per che cosa? Per l'oscurità. Perché pure la lambatina si è rotto qua. Allora si è fulminato. Mamma dò le cianci e cianci alle pampe. Parliamo di cose serie. Guardi una domanda. Ma è zona russo o non è zona russo? Stiamo in quarantena o non stiamo in quarantena? C'è zona russo, Lazio, quarantena tutta l'Italia. La maggior parte dell'Italia. Ma qua stanno tutto fuori. Un mercato, accende che fanno spende, che porto pan, amici, parenti, gente che gioca a pallone. E poi i bollettini ci aiutano. Ieri in quarantena, oggi il secondo giorno, dalla mia zona già siamo a 165 contagi. Ah, e non ci scordiamo, 4 morti. Però stiamo in quarantena, capito? Tutto quando. Allora, la mia domanda è, c'è qualcuno che tena virus e noticia? Ehm, beh. Allora, la mia domanda è, c'è qualcuno che tena virus. Allora, la mia domanda è, c'è qualcuno che tena virus.